Se ti piace la frutta, vuoi la frutta? Oh, fanculo! Mi hanno seguita. Povera Ellie. Speriamo che ci riesca. Ecco anche il cavallo che fa molto rumore. Ehi, l'ho presa! Scendi da quel cazzo! Uh! Dritto in gola. Dritto verso l'infinito e oltre. Cheat! Via! Dritti! Non c'è tempo per fermarsi. X per saltare, mi raccomando. Sinistra. Giù, giù. Tanto mi chiappi, via! Di qua. È indifferente. Raga, passate sempre. Dove ovviamente non ci sono le persone, eh. Va scappando, ma va. Aspetta che passo di qui. Faccio così, passo diritti, prendete e porto via. Cheat! Anche quante cheat! Quante cheat sto sparando! Eh, ma anche loro sparano un botto. Vabbè, in fondo ci siamo arrivati. Se non siamo morti, siamo arrivati in fondo. Addio, cavallino di Tommy. Shit. Tra l'altro con... Tipo zero proiettili. Fantastico. Ok. Adesso comincia il difficile. Adesso comincia il molto difficile. Alcol. Che cosa possiamo farci? Esattamente niente. E qua c'è un'altra stanza. Pistola. Ino. Vediamo ora perché poi non si ride davvero. Ok. Ricarica. Ok. Molta attenzione qui, mi raccomando. Vieni da sinistra, ora vieni da destra. Vieni da sinistra, ora vieni da destra. Sbagliata della storia. Sbagliata della storia. No, invece no. Fuh. Ok. È in casa. Non uscire dal retro, che mi inculi. Ma perché sei così rumorosa? Vaffanculo. Porca merda. Porca merda. Niente. Non c'è niente. Niente. Non c'è niente. Non mi puoi prendere qua. Mi prendi in giro. Niente. Sto diventando paranoico. Esattamente. Togliati dai coglioni. Qui tutto ok? Lì? Niente. Che poi ha detto niente e c'è scritto nulla. Nel sottotitolo fantastico. Ah, perché venite a darmi fastidio? Fanculo. Fanculo. Niente da questa parte. Neanch'io. Dov'è lì? Fa il giù dall'altra parte. Bravo. Aspetta che mi faccio prendere, aspetta. Beccata. No, presa. Vabbè. Potrei lanciarti questa, volendo. Coprimi. Mi muovo. Mi copro le spalle. Non perderla. Oh. Fucile a pompa. Sì, 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 sì. Adesso si fa sul serio. Eh, non so che c'è da arrivare là, però bisogna fare dei passi, giusto? Roma non è stata costruita in un giorno, vero? Dai, passa di qui. Non perderla. Sono due? Aspetta che mi ha incolto anche me. Aspetta che mi ha incolto anche me. Vai. Arrivederci. È stato bello così. Qua che mi dai? Perfetto. Proprio quello che mi serviva. Non vedo uomini. Possiamo andare. Beh. Direi che... È stato impeccabile, eh. Magari impeccabilissimo. No, però c'è. Guardate la vita che ho perso. In confronto agli uomini che erano... Direi che si è fatto un gran bel lavoro. Dai. Là c'è un uomo. Qua c'è un posto dove ripararsi. Chi è che mi sta vedendo? Qui lei non c'è. Maledetta la modalità d'ascolto di Ellie che è veramente... Fa cacare il cazzo. Si può dire? Si, si può dire. In questi casi si può tranquillamente dire. Ovvero... Ok, fin qua sappiamo che l'aria è pulita. So anche che ce ne sono due. Cioè... Uno lo vedo e l'altro no. Curiosissima sta cosa. Buona fortuna allora. No vabbè scherzo mi troverai sicuro. Ti prego vieni qui. Vieni. Qui lei non c'è. Vieni. Non ti girare. Non ti girù. E poi ci rimette di meno zia. Lo vediamo la sei. Va bene valsa la pena dai. Dov'è la ragazza? Dov'è la ragazza? Sei golosissimo! Minchia come sei goloso. VAMOS! Come non mi dai proiettili? Che palle! Mi dai questi che sono già buoni. Però il problema è che sono per un fucile che tipo non potrò quasi mai usare. E ancora una volta mi manca l'alcol incredibile. E ancora una volta mi manca l'alcol incredibile. Due cose sono certe nella vita. una è la morte. Due ti manca l'alcol. Due ti manca l'alcol. Due ti manca l'alcol. confido nella tua bontà per un altro pacco di alcol per fare la molotov eh. Intanto la salute è ripristinata. Esplosivo? Sì. Credo che qua siamo a posto. I believe eh. I can fly. Bagno uno. Vuoto? Oh yes. No c'è mezzo alcol. E c'è anche altro mezzo alcol. Oh ragazzi ci ho visto benissimo. Più dieci per me. Ci ho visto benissimo. E siamo top con le molotov. Qua invece non c'è niente. C'è solo una bottiglietta. Tanto mi scappa da pisciare che voi non avete idea ma questo è un'altra cosa. Qua non c'è proprio niente. Qua dietro qua sopra nulla. Ok. It's done. Fammi fare il giro. Niente. Andiamo su. Percorso naturalistico. Interessante. Anche perché non sai nuotare. Posso saltare sì. E salta. Qua sotto. Qua sopra c'è qualcosa. Qua sembrerebbe. Infatti sì un fumetto. Stupendo. Stupendo. Ok. Ci dovremmo essere. Dai entra. Oh merda. C'è da rimuovere l'Inter. Dai concedetemi questa battuta su. Rimuoviamo l'Inter. L'Inter ghiacciato. Cavolo. Lo snow winter. Comunque. Dovremmo essere arrivati a meta. Allora. Scendi giù. È la via del ritorno. È così sicura? Vai. Si comincia. Ma quanta bella gente che c'è. Controlliamo la zona. Assicuriamoci che non abbia nascosto niente qua. No, non potete venire in tre insieme. No. Perché l'unica soluzione che mi date. È questa qui. Se no. Sicuramente sto qua viene su. Non viene su. Che culo. Torra indietro. Grazie. Fuori uno. Minchia ragazzi. Che stealth. Però uno impara tanto da questo eh. No. Buono. Fuori due. non. Famili. Non se ne parla. Non. 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 E ti sto aspettando, su. I'm waiting here for you. Maledizione! Eh, ma sei rimasto solo? Cazzo, qualcuno ci dà la caccia! Dividetevi! Ma sei rimasto solo? Dividetevi cosa? La torta? Il panino? Le caramelle? Morto! C'è altra gente, sì. Non ho visto un cazzo! Sicuro? Andiamo! Ragazzi, tutto perfetto finora, eh? Cioè, meglio di così non poteva andare. Sa da vedere poi. Ecco ne uno laggiù. Ecco ne uno laggiù. E adesso lo facciamo fuori, non vi preoccupate. Io che vengo distratto dalle notifiche di Slovacchia, Bielorussia. Sì. Va bene. Dai che sei rimasto solo, su. Non farmi tirare fuori le bombe o le Molotov per una persona sola. Che palle. Che palle, però. Non si nasconde là dietro. Quale sono i tuoi prossimi passi? Ma come hai fatto a non sentirmi, coglione? Come hai fatto a non sentirmi? Come hai fatto a non sentirmi? Va bene. Grandissimo. Aspetta, proiettili. Oh, 14 proiettili. Adesso si ragiona. Lì c'è un altro inter, ma mi sa che non è utilizzabile. Ehm, where am I supposed to go? Qua. Non voglio restare intrappolata qui. Ok. Aspetta un secondo. Tra l'altro potevo entrare anche da là. Dov'è l'uscita? Eh, a saperlo. Qualcosa c'è. Alcol esplosivo. Per ora sono a posto, grazie. Però devo cominciare a usare le bombe fumogene davvero. Ma dove cazzo sono comparsi? Non lo so. Finito? Tre colpi. Adesso. The same. Eh, l'ho colto. Bello. Oh. Perfetto. Cazzo. Cazzo, non me l'ho accorto. Eh, vai. Coprimi. Non lo vedo? Merda. Merda. Via. Vieni. Eh, ma accoglilo, eh. Ovviamente il terzo la testa ci manda, no? Va bene. Dov'è il secondo? No, 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 no. Così. Brutalissimo. Ellie, sei lentissima a curarti. Sei lentissima. E non ho alcol per farne un altro, vabbè. Ecco l'uscita. Che poi poteva andarmene dove volevo, ma vabbè. Ok, un attimo. Perfetto. C'è altro? Eccolo sto stronzo. Sì, è sicuro. Sicuro. Hanno messa dentro? Sì. Sì, è sicuro. Come ti senti? Uno splendore. Tieni. Dovresti mangiare. Carne umana. So che hai fame. Sei rimasta qui un bel po'. Che cos'è? È cervo. Sì, è sicuro. Che è un contorno di carne umana. No. No, te lo giuro. È solo cervo. Sicuro. Ripeto. Sei un cazzo di animale. Un giudizio un po' affrettato. Visto che voi avete ucciso... Quante persone? Non ci hanno dato scelta. E pensi che noi l'abbiamo, vero? Uccidi per sopravvivere. Anche noi. Dobbiamo preoccuparci dei nostri. Con ogni mezzo necessario. E quindi ora? Mi taglierai in tanti piccoli pezzettini? Preferirei di no. Però è necessario. Sono stronzo patetico. Al contrario. Sono stato... piuttosto onesto con te. Ora penso sia il tuo turno. È l'unico modo per convincere gli altri. Convincerli di cosa? Che puoi cambiare idea. Su cosa? Sei leale. E sei speciale. Quando fa così Ellie? No. Uffa. Ce l'aveva anche fatta. Stupida, mocciosa. Così mi rendi sempre più difficile tenerti in vita. Cosa dovrei dire agli altri adesso? Ellie. Giustamente in calcio d'angolo si rifugia. Ellie è una ragazzina che... ti ha rotto un dito stronzo. Come avevi detto? Eh? Piccoli pezzettini. Ci vediamo domani Ellie. Devi trovare un modo per farcela. Ma ce la farai ne sono sicuro. Joel! Joel! Ellie. Che poi loro vorrebbero lui, non lei. Però hanno solo lei, quindi usano lei. Non so se rende l'idea. Finalmente si torna in pista con Joel. Allora. Non è messo benissimo. Poi per niente. Ha la flessibilità di un bastone di ferro. Dai, andiamo. Dove diavolo sei? Eh? Trovala. Mi si è messo malissimo. Molto, molto male. Non ora. Non ora, Joel. Oh, finalmente. Delle armi che si chiamino armi. Eppure potenziate. Ovviamente non c'è posti per modificare le armi. Ci mancherebbe. Andiamo all'avventura, va? Già, apri la porta e sta meglio, ok. Bene così. Qua è casa nostra. Suppongo quindi niente. Case inaccessibili. Non urlare. Non urlare. Non urlare. Sì, o non urlare? Eccolo lì! No. No. Fuori uno. Ah. No, sono sotto tiro suo. Me ne ero mica accorto. Com'è fatta a non coglierlo? Dov'è? In un modo o nell'altro me lo direi! Presa. Preso benissimo. Voi indietereggiate tranquilli, eh. E tanto poi ci penso io. A rimettere a posto le cose. Questo capitolo qua è lunghissimo. Perché non lo coglie? Perché non lo coglie? Cazzo! Dimmi cosa c'è che ti impedisce di coglierlo. Dritto per dritto sulla testa e non me lo cogli. Vaffanculo, vai. Vai. Ok. La vuoi mettere così? La mettiamo così. Vogliamo fare la carne arrosto? Facciamo la carne arrosto. Non c'è più problema. Tanto siete cannibali. Quindi forse vi faccio anche un favore. Lo so che sei lì dietro, coglione. Lo so. Oh, come è toccolto. Non posso fabbricare Molotov. Che palle. Colpi il fucile a massimo. Oh, fammi prendere il fucile a pompa, va. La lunghezza di questo capitolo è veramente incredibile. Quest'otto potevano dividerlo in quattro parti, invece no. Non ho voluto che fosse una sola, va bene. Non c'è alcol. Sempre quello il problema, incredibile. Non c'è alcol. No. No. Finisci-lo. Che lo fermo. Da merda. Figlio. Di traia. Bello. Un calcio in faccia. Non ti vieni con me. Forza. Cosa vuoi? Ma... Ma che cosa? Tu aspetta qui. Ora. La ragazza. Dimmi, è viva. Non so niente. La ragazza. Non so di nessuna ragazza. Ai. Cazzo. Ehi, guardami. Guardami. Te lo stacco, questo gazzo di ginocchio. La ragazza. È viva. È il nuovo giocattolo di David. Giocattolo, non gli dire così. In città. In città. Ora me lo indichi sulla mappa. E sarà meglio che sia lo stesso posto che dice il tuo amico. Signalo. È lì, cazzo. Puoi controllare. Chiedilo a lui. Chiedilelo. Te lo dirà. Non sto mettendo. Non sto... Spezza glielo solo il collo, vai. Vaffanculo, cazzo. Ti ha detto quello che volevi. Non so niente. Vai, rispondigli così. Vai. Ok, va bene. Mi credo. Non spero. Boom. Aveva altro da dirti, però. Sveglia, sveglia. Forza. Lasciami. Dai. Basta. Smettila. Ti avevo avvertito. Sono infetta. Sono infetta. Davvero. E ora anche tu. Guarda lì. Non devi crederci. Zio. Ti sta trollando e fa bene. Ops. Tutto accade per un motivo, vero? Che cazzo è quello? Ormai si sarebbe trasformata, non è vero? A me sembra più che vero, cazzo. Oh! Spesissimo! Prendile, vai. Non abbiamo niente, solo un coltello. Dove vai, Ellie? È la mia città! Sicuro? Devo entrare qua dentro, per forza. Yes. Forse è qua dentro? Apri la grande. Ho bisogno di un'arma. Eh? Una sola? Ok. Ce la posso fare. Ok. Kit medico intanto. Che tra le cose più importanti. Via. Magari chiudi la porta, no? Che si è nata al Colossea, come si dice noi. Sicuramente ci sarà qualcuno qua dentro. Aspetta. Cosa? La ragazza è in casa ed è uccita. È una brutta notizia, te. Bene. Voglio che raduniate tutti quelli che non sono armati e che li facciate uscire di qui. Troveremo quella ragazza e la uccideremo. Oh mio Dio. Porto i ragazzi a rifiuti. Sì, aspetta e speraci. Allora. Non ne posso più. Questa volta lui ha passato il limite. Sono mesi che lo dico. Ti abbiamo dato troppa corda. Questa ragazza ha ucciso in onde e ora è infetta. Ripuliamo questo casino, poi faremo un'assemblea cittadina e metteremo ai voti la sua leadership. Ah, tutta politica allora. Bastava dirlo. Ok, beh. Un bel po' ce lo siamo scampati, dai. Basta con questo... Jingle. Se così lo possiamo chiamare. Non mi hai visto, non mi hai visto. Non mi hai visto. Mmm... So che sei qui. Sì, in effetti sono qui. Però mi devi trovare. Lo so che c'è da andare lì, però... Buonissima arma. Ok. Non uscirai vivo da qui. Altro step. Qua sicuramente sarà pieno. Sono ovunque. Niente da questa parte. E anch'io. Scendi. Non scendi. Scendi, dai. Come sarebbe bello potersi nascondere lì dentro. Andiamo? Andiamo? Qui è tutto ok. E lì? Altri colpi sono ben accetti. Ok. È giù. Qua sotto ci posso passare, sì. Ok, sono quasi al sicuro. Che qua dentro almeno... Non credo... Dovrebbero esserci pericoli. Molto detto. Cazzo! Un uomo morto? Succede. Ci danno la caccia! Cerchiamo ancora. Lo so, lo so, lo so, lo so. Tranquillo. La vedo la strada. Grazie. Grazie. Ok, dai. Dovremmo, credo... Conoscendo il gioco, essere... A più di metà. Mmm. Promette male. Promette malissimo. Mmm. Ok, questi due si devono muovere di qua. Niente! No, non vedo niente. Dove vado? Eh? Te lo devo di io? Cioè, in realtà, sì, te lo dovrei di io. Proprio quello è il punto. Dove sono? Credo sotto la neve. Gira dietro a questo autobus, per favore. Fa così freddo. Ok, uno è lì. Ottimo. Ottimo, Ellie, ottimo. Ma perché mi dai suggerimenti? Che palle! Sembra che sia handicappato. Piano piano ci arrivo. Non posso mica correre. Ok, dai. Cazzo duro. Siamo dentro. Finally. Kit medico. Ce n'ho due. Non male. Qualcosa mi dai? E però corri un pochino di più, zia, eh. Ok. 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 Questo è un ristorante di cannibali, per forza? Sennò non si spiega. Non credo che ci sia tante altre cose da prendere. Un altro kit medico invece è importantissimo, vedi? Ok. Kit medico al massimo, bisogna ricordare che è lì. E usciamo. Verso nuove avventure. Oh, merda. Tutto stronzo. Eh, mi sa che siamo al conflitto finale qui. Ok, non capestare piatti. Nessuna persona infetta si danna così per rimanere in vita. Devo trovare quelle chiavi. Almeno tu ci sei arrivato. Che c'è, Ellie? Devo ammettere. Attenta! No, erano quei piatti. Dovrai fare di meglio. Oh, ehi, Ellie. Mi dispiace per il tuo cavallo. Non era mia era di Tommy. Non rompere i coglioni. Non mi consolerà sapere che... Non ne sprecheremo... Ti ho sentito? Merda! Che poi lo fanno apposta perché qua potrei avere... Molotov, granate, far fuori tutto e tutti. Vieni. Uno. Sei stata in gamba, piccola. Andrà tutto bene. No. No. Dov'è? Oh, vedi. Sai, continui a sorprendermi. Già, vero. È un peccato che non abbia cambiato idea. Due. Qua ci posso ancora passare, sì. Dov'è sto stronzo? Andiamo. Basta così, Ellie. Vieni fuori e facciamola finita. Che ne dici? Sta andando di qua. Non lo vedo. Perché non lo vedo? Sto sudando malissimo. Giuro. Che fai di nascondere anche tu adesso? Ciao. Vieni fuori. Come fa sapere che sono qui? Come fa sapere che sono qui? Ho una bruttissima posizione. Non vuoi finirla qui? No. Assolutamente no. Dove sei? Ok. So che sei lì. Se ne piatti. No. No. Ok. Sei lì. Che brutto che ti scompare così però. Ah, l'arte del distrarmi. Già, vero. Dove vai? Merda. No. Metto bastardo. Non ce la faccio neanche a parlare, giuro. Eccoti qua. Vai. Uff. Ah. Ah. Penso che questa sia quella finale. Dai. Sì. Adesso siamo tornati a Joel. Finalmente abbiamo un po' di armi serie. Dispiace Ellie ma è la verità. Qua c'è un motel. Che sicuramente non è il ristorante di Cannibale. Sino c'era scritto ristorante. E quindi... C'è da passare a questo punto che già mi pare abbastanza difficile. Ragazzina è letale. Non sappiamo... Ne vedo cinque per ora. Ok. Direi che un rifugio sicuro potrebbe essere questo. Un macetino. Sicuro. A parte c'era un macete anche prima. Quindi buona. Che è che mi sta per vedere? Bu. Coprimi. Mi muovo. Vai. Trovami se hai coraggio. È ancora lì? No. Ho ventaglio. Vieni ventaglio. Vieni ventaglio. Sono in sei. Erano in cinque adesso che non è morto uno. Sono in sei. Va bene. Dietro nei bagni. Lo vedi? Qui lui non c'è. Vieni. Roliamo quella stanza. L'importante è che non passino dal retro. Vieni che ti vengo a prendere. Oddio non lo so. Se mi conviene venirti a prendere. Zero molotov. Merda. Ma dai. Un coraggioso che si fa vicino. Si fa vicino. Si fa avanti. Grazie per i colpi. Molto gentile. Che marciume. Vabbè. Vaffanculo. Se n'è già andato? Se è così cagato. Ah no. Eccolo qua. Pagherai per questo stronzo. Continuo. Vieni. Che fai? Cacasotto? Non è una buona scelta. Aspetta. 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 Sono due. Veloce. 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 Che cos'è? Va giù. Via. Due. Due. Confermati due. Minchia oh. Che lotta. Come fa a non vedermi? Non lo so. Via. Via. Due piccioni con una fava. Però lancia fiamme qua è stato veramente inutile. Giuro. l'ho provato a bruciarlo ma senza successo. Lui è raggiù. È andato. Dovano cambiare. Dovano cambiare va. Sei goloso. E ti sei confermato tale. Ok, beh, penso che siamo a posto, vero? 8 minuti di lotta Dai, andiamo Dentro al tunnel Sono fuori dal tunnel Del divertimento Che ci sta ancora aspettando da anni Cose che non vorresti vedere Veniamo qua dentro? Chiedo per un amico L'hai visto? Qui lui non c'è Però non posso aspettare più di tanto Bomba Eh, era l'unica cosa da fare Chiuditi dentro Grande Lo zaino di Ellie Perché c'è lo zaino di Ellie Lettera 2331 chili Cazzo, cazzo mangiano Manco me o Dov'è l'avete uscita? Qua Oh Cristo Che bello spettacolo Mi ci voleva proprio adesso Chissà l'odore poi Che poi non possono mangiare gli infetti Quindi devono mangiare Proprio gli umani The only meat you want to eat Traduzione totalmente diversa Via E poi era così vicino in realtà Vabbè Non è proprio il punto dove l'ho colto l'ultima volta Però dai Ci può stare Striscia verso il macete Dai Dai Ellie ce la puoi fare Chi sa il caldo che c'è lì dentro Eccolo Lo sapevo Che passione Non ti piace vincere facile, vero? Non vergognarti Che poi gli ha reciso da giugolare, cazzo Non è ancora morto Ma questo è un no Non è il tuo stile, eh? Vuoi provare a supplicarmi? Ancora Di ucciderti E di mangiarti? Oh Scena poco violenta Devo dire Scena molto poco violenta Basta Non toccarmi È tutto ok Sono io Sono io Guardami, guardami Sono io È tutto ok 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 Chissà cosa si stanno dicendo Un momento molto toccante questo però Perché Facciamo tanta guerriglia Però Alla fine L'amore Amore vince Tomnia Perché C'è molto Affetto tra i due C'è nulla